ciao a tutti torna dell'hack master 10 più 0 vediamo come andrà oggi 22 84 per dell'hack master nostro avversario che muove molto velocemente 22 31 va bene ok qui allora qui possiamo sia dare la possibilità al nero di spingere in h4 ed eventualmente sacrificare la qualità oppure spingere noi in h4 non ci curiamo di questa minaccia ed eventualmente ok non credo che questo sacrificio sia corretto è interessante ma non corretto intanto il pedone in h3 attacca sfrutta questa debolezza interessantissimo quella è interessantissimo sì mannaggia e va bene a conti fatti il nero di fatto si è ripreso la qualità gli manca il pedone in h ma può riprendere il pedone a va bene io qui giocherei una mossa come alfiere d2 con idea in alcune linee alfiere c3 e qui a malincuore dobbiamo arroccare nel senso che qui questi due pedoni non sono un grande scudo per il nostro re e d'altro canto questo è che potremmo addirittura mettere l'alfiere in g5 ma non mi convince molto preferisco di più avanzare l'idea è quella di ok ok qui il nero deve sviluppare il suo lato di donna essendo il bianco un po più avanti con lo sviluppo il re ad esempio è arroccato prova ad aprire il centro si può prendere di pedone o d'alfiere di alfiere qual è il motivo in questo modo i due pedoni nelle colonne centrali non si trovano sulla stessa colonna e quindi la posizione potrebbe essere un filo più sbilanciata ora con quest'alfiere bisogna fare qualcosa e secondo me quel qualcosa potrebbe essere alfiere f4 si attacca c6 in alcune varianti c'è alfiere g3 cosa che potrebbe rafforzare la difesa del bianco questo pedone è difeso dalla donna quindi l'alfiere può comunque ritirarsi senza troppi problemi e quindi lo facciamo ritirare nella sua casa naturale ovvero alfiere di due questa sinceramente non l'ho capita alfiere e 5 si attacca qui si attacca lì caspita e quella è buona quella è buona purtroppo e qui non ne abbiamo tantissime ahimè credo che dobbiamo giocare una mossa come alfiere f3 che sinceramente non mi sembra il massimo però forse era meglio piazzare subito l'alfiere in f3 anziché in g2 purtroppo non ho visto che e5 dava la possibilità all'alfiere campo campo chiaro del nero di entrare in gioco su su g4 qui si potrebbe sia parare l'attacco dell'alfiere h3 alla torre in f1 sia giocare una mossa come torre 1 torre 1 mi piace di più l'idea è quella di far giocare la torre su colonna aperta ora qui sarebbe interessante alfiere per c7 si andrebbe a sfruttare la posizione in difesa di quello alfiere bisogna sempre però fare attenzione che non ci siano delle intermedie fastidiose alfiere 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 e niente tutto sommato se c'è qualche intermedia io sinceramente non la vedo giochiamola ah ok ok allora questa alfiere adesso impresa qui no qui no qui no qui no le case papabili sono quindi una due tre e quattro a me sinceramente quella che piace di più è alfiere alfiere g3 che funge un po' da scudo al nostro debole re in g1 da un punto di vista materiale il bianco ha un pedone in più anche se al momento è difficile da valorizzare il pedone si trova ancora in d3 e il cavallo in b1 è da sviluppare inoltre il nero aumenta la pressione sul pedone debole in h5 qui però abbiamo anche delle risorse interessanti del tipo cavallo c3 che vanno ad attaccare la donna in b5 e quindi il cavallo finalmente entra in gioco con guadagno di tempo dopodiché questo cavallo entra entra a gamba tesa come si dice qui attacca sia il cavallo f6 che la donna in g5 qui si può riprendere sia da alfiere che di torre sinceramente io preferisco di torre si dà la possibilità di raddoppiare sulla e i pezzi pesanti con la torre in testa che è una batteria più potente e inoltre in alcune varianti si minaccia anche torre e5 oppure la forte torre c4 e qui questo alfiere si farebbe sentire non poco tant'è che infatti il nostro avversario punta su alfiere e6 presumo proprio con lo scopo di evitare c4 cosa si può fare in merito allora d4 con idea d5 ha il suo perché bisogna però contrastare una mossa come alfiere d6 che aumenterebbe la pressione sul nostro pedone sul nostro alfiere in g3 re g2 potrebbe essere una valida opportunità secondo me donna e2 vale la pena giocarla si aumenta la pressione sulla colonna e aaaah mossa tra bocchetto la minaccia è alfiere donna per alfiere come si contrasta? beh abbiamo ad esempio d4 d4 sinceramente è il suo perché giochiamo d4 va andiamo a tappare l'alfiere in c5 che picchia su f2 e che andava ad inchiodare e adesso giochiamo re g2 aumentando la difesa dell'alfiere in g3 se alfiere per alfiere pedone per alfiere il bianco rimane con un pedone in più e il controllo della colonna e questo pedone da d3 è andato in d4 e la minaccia è c4 e spingere questi due pedoni e quindi che dire la posizione sta interessante 2 minuti e 53 contro i 7 del nostro avversario nostro avversario che spinge in in g6 l'idea è quella di aprire le linee o eventualmente crearsi un pedone h molto forte allora questo lo mangiamo siamo forzati a mangiarlo o possiamo anche giocare una mossa diversa come e3 o addirittura d5 e3 mi piace sinceramente giochiamo due minuti contro i 7 forte zeitnot per the luck master posizione vantaggiosa non facile da giocare qui si minaccia donna f5 con idea donna h3 scacco e poi alfiere per g3 f per ah qui invece viene in questa non l'ho capita però chiedo venia ma non l'ho capita perché su alfiere per che adesso non è più inchiodato che succede? quest'alfiere anche se desse scacco in h3 non non capisco addirittura addirittura c'è anche il piano re f1 questo addirittura si può pure mangiare allora andiamo in ordine alfiere g3 h4 al momento il nero non può giocarla sarebbe in presa ok qui adesso scappiamo sul lato opposto della scacchiera considerata la situazione precaria sul lato di re e adesso qui andiamo a minacciare una manovra di questo tipo l'idea è donna f4 con idea donna c7 matto o in alcune linee anche donna b8 re d7 donna lì e cascatello ok su donna a5 subito donna c3 57 secondi contro 5 minuti qui lo zeit non si fa sentire qui subito forzata andiamo di pre move adesso la minaccia è ok qui questi due alfieri svolgono uno splendido gioco scacco si minaccia torre b8 scacco ok 44 4 ok 5 7 8 8 8 8 9 8 anche questo scacco che è interessante veniamo qui si minaccia questo scacco fastidioso no ok si perde questo e pazienza però 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 c'è il matto con 23 secondi però c'è il matto e che dire è matto e allora qui l'avversario puntando sul fatto che la partita era blocco rapide quindi 10 più 0 senza incremento in apertura si è lanciato con il sacrificio di qualità dopo aver spinto il pedone fino in h4 dopo di che si è subito rifatto con donne f6 attaccando la torre in a1 in difesa e il pedone in f2 per fortuna il nostro eroe è riuscito a cavarsela medio gioco interessante poi ad un certo punto nelle complicazioni per il nostro avversario ha perso un pezzo non so se l'ha sacrificato volutamente proprio perso sta di fatto che il vantaggio del bianco era netto ma il tempo era pure poco per fortuna anche se con un minuto circa la posizione era tale per cui era facilmente era facile ottenere il punto pieno qui il re si trova tagliato dalla torre sulla sua ottava traversa questo pedone libero fortissimo e i due alfieri hanno fatto il resto spero che la partita vi sia piaciuta se si mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina spargete la voce tra i vostri contatti scacchisti per quanto riguarda questo canale e che dire è stato un piacere e alla prossima tante belle cose grazie a tutti